Ciao amici, sapete che ci sono quattro zone nel mondo dette zone blu? Sono le zone in cui le persone vivono più di 100 anni. Dove sono? Prenoto subito un volo di sola andata. Non serve un volo di sola andata. Le zone blu sono a Okinawa in Giappone, in Sardegna, a Nicoya in Costa Rica e a Icaria in Grecia. Il segreto della longevità è stato studiato e non dipende dal luogo geografico ma dalle abitudini alimentari. Puoi mangiare sano in qualunque posto senza spendere in voli aerei. Mangiare sano è piuttosto semplice come vi spiego sempre nei miei video. I principi alimentari adottati dagli abitanti delle zone blu sono tre. Vediamoli insieme. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Zuccheri meno che potete. Cercate di non superare 25 grammi di zuccheri aggiunti al giorno. Lo zucchero aumenta il rischio di obesità, diabete e malattie cardiovascolari. 2. Cibi integrali più di quelli raffinati. I cibi raffinati, gli alimenti pronti e insaporiti sono molto nocivi per la salute. Sono pieni di zucchero, oli e sale che aumentano il rischio di obesità, diabete e altri disturbi. Meglio optare per i cibi integrali che sono più sani e nutrienti. 3. Più verdure e soprattutto a foglia verde. Le verdure crucifere e a foglia verde abbassano la pressione del sangue, mantengono pulite le arterie e aiutano a mantenere il peso a forma ideale. Avete visto amici, si può vivere a lungo seguendo abitudini alimentari sane. Per vedere tanti altri video sull'alimentazione naturale per la salute e la forma fisica è facile. Iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e scegliete le playlist dedicate. Per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale. La salute è importante anche per i vostri amici, condividete questo video, può essere utile. Vivi consapevole e vivi meglio!